buongiorno a tutti allora 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 dottatona del gigione con le call news di che cosa parleremo in questa in questo primo video di call news allora parleremo di un film in cui protagonista era brett pitt che faceva una parte molto particolare molto lugubre e non aggiungo altro poi parleremo di un problema grammaticale che ha sconfitto gli studiosi e anche gli studiosi ogni tanto devono gettare la spugna e a rendersi all'inevitabile poi hanno scoperto si fa per dire scoperto perché notizie del dicembre 2022 sono call news come vi ho sempre detto un'incisione importante in una grotta non aggiungiamo altro se restiamo diciamo che è una cosa molto religiosa ecco questa scoperta è molto religiosa per i cattolici 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 cristiani cristiani diciamo così e poi dopo il telescopio spaziale abel ha fatto un'immagine ha beccato ha fotografato a questa immagine un'immagine dal video e ne parleremo ecco queste sono le quattro notiziole come vedete come sempre si spazia cinema religione poi problema grammaticale spazio dicione vi regala di tutto e di più e guai o è che non mi caga nessuno e vabbè cos'è che era mero profete neoprofete vabbè quello che è fa niente ragazzoli andiamo a parlare di brett pitt e questo film è il film che ha trasformato brett pitt in un angelo della morte era il 29 gennaio 1999 25 anni fa quando nelle sale italiane usciva vi presento joe black film diretto da martin brest remake del film del 1934 la morte in vacanza è ispirata alla commedia omonima di alberto casella tra le sequenze tra le sequenze più suggestive di tutto il film c'è sicuramente quelle in cui brett pitt dopo 15 minuti di narrazione viene investito violentemente da una macchina per anni gli spettatori si sono chiesti come è stata girata se è stato utilizzato uno stuntman o un semplice pupazzo dopo tante teorie finalmente abbiamo la risposta allegria come diceva il grande mike nel corso di un'intervista a vultur buddy joe hawker il coordinatore degli effetti speciali no il coordinatore degli stuntman del film e robert devine il coordinatore degli effetti speciali non ero confuso uno con l'altro hanno spiegato nei minimi dettagli come è stata girata la scena innanzitutto la scena è stata girata per davvero senza l'utilizzo della computer grafica per ricreare la sagoma di brett pitt è stato utilizzato un manichino con tutte le articolazioni e in aggiunta è stato fatto uno stampo alla testa dell'attore abbiamo fatto un calco in gesso del corpo di brett pitt lo abbiamo realizzato in hotel lui aveva addosso una tuta che gli copriva tutto il corpo ho applicato una benda di gesso sulla parte anteriore e posteriore del suo corpo e poi ho scoperto che il miglior agente distaccante per far sì che la benda non si attacchi è lo shampoo per bambini inoltre avevamo un supporto in modo che potesse allungare le braccia per aiutarsi a sostenersi aiutare a sostenersi ha ribellato divine insomma la suggestiva scena dell'incidente in vi presento joe black è il classico esempio di maestria cinematografica bene 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 magari non lo sapevate magari non avete neanche visto il film io non l'ho visto sinceramente mi vergogno a dirlo purtroppo vi presento joe black non l'ho visto proseguiamo col problema grammaticale ragazzi purtroppo anche gli scienziati ogni già ogni tanto puff gettano la spugna un problema grammaticale che ha sconfitto gli studiosi di sanscrito fin dal quinto secolo avanti cristo è stato finalmente risolto da un dottore di ricerca indiano invece no non hanno gettato la spugna ce l'hanno fatta rishi raipopat raipopat studente presso l'università di cambridge ha risolto un antico rompicapo grammaticale dopo 2500 anni la scoperta dalla possibilità di derivare messo tra virgolette qualsiasi parola in sanscrito costruendo così milioni di parole corrette grammaticalmente i principali esperti di sanscrito hanno descritto la scoperta di raipopat come rivoluzionaria messo tra virgolette e ora potrebbe significare che la grammatica di panini panini può essere insegnata ai computer per la prima volta in questa tesi pubblicata appunto dal dottor raipopat che ha decodificato un algoritmo vecchio di 2500 anni che rende possibile per la prima volta usando la macchina del linguaggio di panini il sistema di panini 4.000 regole dettagliate nella sua più grande opera l'asta di ad però l'asta no l'asta di jaji l'asta di jaji che si pensa sia stata scritta intorno al 500 avanti cristo è pensato per funzionare come una macchina inserisci la base e il suffisso di una parola e dovrebbe trasformarli in grammaticalmente corretti parole e frasi attraverso un processo graduale fino ad ora tuttavia c'è stato un grosso problema spesso due o più regole di panini 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 dai chiamiamolo panini sono applicabili simultaneamente allo stesso passaggio lasciando gli studiosi attormentarsi su quale scegliere risolvere i cosiddetti conflitti di regole che interessano milioni di parole sanscrite comprese alcune forme di mantra e guru richiede un algoritmo panini ha insegnato una meta regola per aiutarci a decidere quale regola dovrebbe essere applicata in caso di conflitto di regole ma negli ultimi 2500 anni gli studiosi hanno interpretato male questa meta regola il che significa che spesso ha ottenuto un risultato grammaticalmente errato nel tentativo di risolvere questo problema molti studiosi hanno sviluppato faticosamente centinaia di altre meta regole ma il dottor raipopat mostra che queste non sono solo incapaci di risolvere il problema in questione hanno prodotto tutte e troppe eccezioni ma anche del tutto inutili raipopat mostra che la macchina linguistica messa tra virgolette di panini è autosufficiente tradizionalmente gli studiosi hanno interpretato la meta regola di panini nel senso che in caso di conflitto tra due regole di uguale forza vince la regola che viene dopo nell'ordine seriale della grammatica raipopat lo rifiuta sostenendo invece che panini intendeva che tra le regole applicabili rispettivamente al lato sinistro e destro di una parola panini voleva che scegliessimo la regola applicabile al lato destro utilizzando questa interpretazione raipopat ha scoperto che la macchina linguistica di panini produceva parole grammaticalmente corrette quasi senza eccezioni prendi mantra e guro come esempi nella frase deva devan prasanna mantrai gli dei devan sono compiaciuti prasanna dai mantra mantrai incontriamo conflitto di regole quando deriva mantrai dai mantra la derivazione inizia con mantra più b h i s una regola è applicabile alla parte sinistra mantra e l'altra dalla parte destra b h i s o bis dobbiamo scegliere la regola applicabile alla parte destra bis che ci dà la forma corretta mantrai mantrai nella frase in anam digiate guruna la conoscenza in anam in anam è data di yate dal guru gurunya incontriamo un conflitto di regole quando deriva gurunya dal guru la derivazione inizia con guru più a una regola applicabile alla parte sinistra guru e l'altra alla parte destra un dobbiamo scegliere la regola applicabile alla parte destra a che ci dà la forma corretta guruna o gurunya il professor vincenzo vergiani ha dichiarato il mio studente risci l'ha risolto ha trovato una soluzione straordinariamente elegante a un problema che ha lasciato perplessi gli studiosi per secoli questa scoperta rivoluzionerà lo studio del sanscrito in un momento in cui l'interesse per la lingua è in aumento il sanscrito è una lingua indoeuropea antica e classica dell'asia meridionale è la lingua sacra dell'induismo ma anche il mezzo attraverso il quale gran parte della più grande scienza filosofia poesia e altra letteratura secolare dell'india sono state comunicate per secoli sebbene sia parlato solo in india da circa 25 mila persone oggi il sanscrito ha un significato politico crescente in india e ha influenzato molte altre lingue e culture in tutto il mondo una delle principali implicazioni della scoperta del dottor rai popat è che ora che abbiamo l'algoritmo che esegue la grammatica di panini potremmo potenzialmente insegnare questa grammatica ai computer il che vuol dire che poi l'intelligenza artificiale ti traduce tutto in automatico seguendo questa regola e teoricamente dovremmo avere delle frasi tradotte in maniera chiara limpida la palistiana senza errori io con le lingue non non è che mi trovo benissimo quindi lascio fare agli esperti veniamo a questa scopertona sempre siamo sempre nel verso il natale del 2022 siamo intorno al 20 di dicembre giorno più giorno meno del 2022 recenti scavi si fa per dire perché è passato un anno e mezzo hanno rivelato l'incesione salome che era l'allevatrice di maria in una grotta trovata in una foresta si ritiene che una grotta sepolcrale di duemila anni fa trovata nella foresta di l'acchish sia la tomba dell'allevatrice che aiutò alla nascita di gesù in seguito agli scavi che hanno scoperto iscrizioni che citano salome che era l'allevatrice di maria l'israel antiquities authority ha annunciato alcuni giorni prima che il mondo cristiano celebrasse la nascita di cristo che le incisioni in greco antico e arabo sono sufficienti per dimostrare questa è la grotta della santa salome le squadre hanno anche scoperto rovine di negozi nelle vicinanze databili tra l'ottavo e il nono secolo che vendevano lampade a olio utilizzate nella preghiera centinaia di lampade complete e rotte sono state trovate nel piazzale provando tra virgolette che la grotta era un luogo di culto il ruolo di salome come elevatrice alla nascita di cristo è raccontato nel vangelo di san giacomo il vangelo di giacomo che antico non canonico è un vangelo dell'infanzia del secondo secolo che racconta il concepimento di maria la sua educazione il matrimonio con giuseppe e il viaggio della coppia a betlemme insieme a dettagli di gesù da ragazzo ci sono circa 130 manoscritti greci contenenti il vangelo di giacomo ma la maggior parte di questi risale al decimo secolo o più tardi l'autore giacomo messo tra virgolettine è indicato nel nuovo testamento come figlio di giuseppe fratello di gesù tuttavia james sarebbe stato il figlio della prima moglie di giose il nome salome o in ebraco shalom o shlomit era un nome ebraico comune nel periodo del secondo tempio ed era noto anche nelle famiglie asmone ed erodiane ha detto fierer in una dichiarazione secondo una tradizione cristiana salome era l'allevatrice di betlemme chiamata a partecipare alla nascita di gesù la grotta comprende diverse camere con più cochi scavati nella roccia che sono nicchie sepolcrare cochi e e ossari rotti scatole di pietra che attestano l'usanza funeraria ebraica la tradizione ebraica della sepoltura secondaria in ossari di pietra è ben nota nella documentazione archeologica ma la sorpresa è stata l'adattamento della grotta a cappella cristiana a giudicare dalle croci e dalle dozzine di iscrizioni incisi sulle pareti della grotta nei periodi bizantino e dal primo periodo islamico la cappella era dedicata alla sacra salome ha condiviso ha condiviso l'ia in una dichiarazione che sarebbe l'israel antiquities authority via 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 vabbè hanno scoperto la grotta della teoricamente teoricamente la grotta della levatrice che fece nascere gesù concludiamo andiamo tra le stelle perché il team di hubble ha rilasciato un'immagine incredibilmente bella scattata dal telescopio spaziale appunto hubble della nasa esa di una piccola porzione della grande nebulosa emulsione western out five questa immagine mostra una piccola regione della famosa nebulosa western out five che si trova a circa 7 mila anni luce dalla terra suffusa di luce rossa brillante questa immagine luminosa ospita una varietà di caratteristiche interessanti tra cui un globulo gassoso evaporante che fluttua liberamente che hanno chiamato freg frgg il freg in questa immagine è la piccola regione scura a forma di girino in alto a centro a sinistra questa bolla dall'aspetto vivace è piena di due nomi piuttosto poco interessanti cag 2008 globule 13 e io 2009 25.838 punto 6 più 60 60 60 4.259 designato come cag 2008 eccetera eccetera l'oggetto si trova a 7 mila anni luce dalla terra nella costellazione di cassiopea i globuli gassosi evaporanti a fluttuazione libera appunto freg sono una classe particolare di globuli gassosi evaporanti egg hanno spiegato gli astronomi di abbro in una dichiarazione sia i freg che gli egg sono regioni di gas sufficientemente densi da foto evaporare meno facilmente rispetto al gas meno compatto che le circonda la foto evaporazione si verifica quando il gas viene ionizzato e disperso da un'intensa fonte di radiazioni tipicamente stelle giovani e calde che rilasciano grandi quantità di luce ultravioletta gli egg sono stati identificati solo abbastanza di recente in particolare sulla punta dei pilastri della creazione che sono stati catturati da hub in immagini iconiche rilasciate nel 1995 i freg sono stati classificati anche più di recente e si distinguono dagli egg per essere staccati avere una distinta forma a testa coda hanno detto gli astronomi i freg e gli egg sono di particolare interesse perché la loro densità rende più difficile la penetrazione delle intese radiazioni ultraviolette che si trovano nelle regioni ricche di giovani stelle la loro relativa opacità significa che il gas al loro interno è protetto dalla ionizzazione e dalla fotoevaporazione si ritiene che questo sia importante per la formazione di protostelle e si prevede che molti freg e egg ospiteranno la nascita di nuove stelle il freg nell'immagine di hubble è una macchia scura nel mare di luce rossa hanno aggiunto il colore rosso è causato da un particolare tipo di emissione di luce nota come emissione h alfa ciò si verifica scusate devo girare pagina quando un elettrone molto energetico all'interno di un atomo di idrogeno perde una certa quantità della sua energia facendo sì che l'elettrone diventi meno energetico e che questa caratteristica luce rossa venga rilasciata bene abbiamo parlato anche dei freg e degli egg e detto questo ragazzoli direi che vi ho lesionato i testini abbastanza a sufficienza con delle cose abbastanza diciamo di spessore ecco se mi permettete il termine a parte il film con Brad Pitt che magari un attimino più più tranquillo il resto diciamo che erano così nel sanscrito la tomba di salome i freg e gli egg diciamo che entriamo un po' nel complicato nel noioso chiamiamolo tra virgolette poi dipende da persona a persona c'è gente che magari ci piace parlare di freg parlare di egg parlare delle tombe degli antenati o anche parlare di in sanscrito che magari uno mi scrive in sanscrito e io non ci capisco una mazza logicamente mi offende in sanscrito ma non lo so ah no volendo potrei decifrarlo perché sul cellulare ho inserito la cosa per decifrare qualsiasi lingua teoricamente cioè tu fai la foto vai su questo coso fai la foto di quello che c'è scritto su un cartellone o che cosa è in una lingua non italiana e lui te lo traduce in italiano teoricamente non l'ho ancora usato l'ho inserito tanto così per ma non credo che mi servirà molto ragasoli io vi saluto vi ringrazio e adesso vado a fare anche l'altro di video non ci si ferma mai poi parleremo anche di spareggio serie c e di nazionale italiana forse se non ne parlo nella giornata di tomorrow ciao